Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador di Bim Sanctuary per l'Italia e oggi parleremo insieme di Lafroig Lore. Lore che in gaelico significa passaggio e infatti questo whisky vuole celebrare quello che è l'artigianalità e il passaggio, quindi questo tramandarsi di storia che avviene da oltre 200 anni nelle distillerie Lafroig. Un whisky che ha tre tipi di invecchiamento, invecchia sia in botti ex bourbon che in botti ex sherry oloroso che in botti europee di quercia. È un whisky no age statement quindi non è specificato l'anno di invecchiamento sulla bottiglia ma è un whisky composto da liquidi che oscillano tra i 7 e i 21 anni di invecchiamento. Un whisky che quindi ricorda i whisky antichi di casa Lafroig, un whisky dalla torba mediamente forte ma sicuramente da un carattere veramente full body e da questo alcol molto morbido che poi accarezza il palato in fase di deglutizione.